Perché siete qui oggi? Per far sentire la voce di quei milioni di cittadini che sono stati calpestati dalla sentenza della consulta. Sono dei giorni gravissimi per la democrazia in questo paese perché viene tolta la possibilità di scegliere e di votare per i cittadini di questo paese. Noi continuiamo questa battaglia oggi, la continueremo sia fuori dalle sedi istituzionali con queste manifestazioni, sia dentro le sedi istituzionali chiedendo al governo e maggioranza, anzi imponendo al governo e maggioranza di discutere le proposte di legge che vanno ad abrogare o modificare la riforma Fornero.